Abbiamo contribuito mantenendo in efficienza la linea che è stata costruita, in realtà il contributo dell'infrastruttura è stato prima la fase della realizzazione. Adesso, da oggi in poi, aumenteremo la nostra capacità mettendo tecnologie sempre più moderne, soprattutto ammodernando il tratto tra Roma e Firenze, che è quello più antico, quello precedente, che deve raggiungere gli stessi standard delle altre linee.